Ci sono arrivati pacchi da tutto il mondo, abbiamo assaggiato i cibi di qualsiasi cultura, abbiamo sgranocchiato insetti, cibi essiccati, semi indistinguibili, dolci salati, dolci piccanti, salati piccanti, dolci salati e piccanti cose, ma il pacco di quest'oggi, il pacco di quest'oggi ci ha sconfiggi. Consegnato alla redazione locale, ci è stato inviato via satellite pochi minuti fa. Il filmato risulta autentico a un primo giudizio, vi avvertiamo che sono immagini che possono turbare. Cazzo, non ti lamentare che tu hai una massa. Corca traia, quello che entra qua è molto più potente del resto. Cosa voleva darci il nostro amico? La salmonella. Oh no, 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 no. Prendi una busta perché la dobbiamo isolare tra un po'. Dio. Le immagini non sono state manipolate o alterate in alcun modo. Tutto quello che vedete è vero, è incredibile. Tutto quello che è scritto nei libri di scienza dovrà essere cambiato. C'è qualcosa lì dentro. Non è il gomito. Non è il gomito.